Live Bet Point, la tua sala scommessa adiacente alla curva sud dello stadio Partegno Lombardi per scommettere e vincere, come i veri campioni. Scommesse sportive con le quote che fanno la differenza. Da Live Bet Point potrai aprire e ricaricare il tuo conto gioco SNAI. Virtual Games, sala slot WLT ed ampia sala fumatori. Live Bet Point è anche rivenditore ticket per le partite dell'US Avellino, per la Scandone e per tutto il circuito GoTo. Live Bet Point, in via zoccolare, ad Avellino. Live Bet Point.